Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa! Sta per cominciare una nuova puntata di WWE SmackDown! Udite udite ragazzi, oggi il match di punta vedrà Asuka e Becky Lynch contro le iconiche Peyton Royce e Billie Kay! Lo dici così proprio? Certo, perché cos'è? E basta, rompiamo gli schemi, lasciamo perdere il Politically Correct! Viva la gnagna! Io non vedo l'ora di vederle, cioè di vederlo questo match ovviamente. Sarà il primo match di Asuka a SmackDown e restando in ambito femminile, oggi Charlotte Flair e la neocampionessa Carmella firmano il contratto per la loro rivincita titolata di Backlash. E noi sappiamo bene, giusto French, che quando ci sono queste cose, queste occasioni, accade sempre qualcosa di imprevisto e di imprevedibile. E invece certo che ci sarà in azione uno dei due Bludgeon Brothers, il Barbarossa Rowan che se la vedrà con Jimmy Uso, perché tra i due è prevista tra poco la rivincita per quanto successo avreste il match e quindi gli animi temo che si scalderanno e si scalderanno parecchio. Il piatto forte, però, ve lo abbiamo tenuto per ultimo, ed è il debutto del Super VIP, The Miz a SmackDown, dopo lo shake up che ha cambiato un po' le carte in tavola. Ha rimescolato il pettolone. Bravo. Tra l'altro The Miz ha subito annunciato una puntata speciale del suo talk show, nel quale l'ospite speciale sarà... Sarà? 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 Sarà perché ti amo? No. Ah, ok. Sarà Daniel Bryan. Wow, ragazzi, porca pupazza, si parte davvero forte. E allora, tra poco, qui su Sky Sport, è davvero tempo di WWE SmackDown. E allora, tra poco, qui su Sky Sport, è davvero tempo di WWE SmackDown.